Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio ad Azzano Decimo. Un operaio bulgaro di 60 anni che lavora per conto di una vita veneta è precipitato ad un'altezza di 8 metri, mentre era intento a riparare i danni causati dalla violenta grandinata di lunedì scorso al tetto delle IDA Campionari, azienda che si trova in via Villalta, nella zona industriale azzanese. Erano le 16 quando si è verificato l'infortunio che è stato fatale all'operaio. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, ma pare che l'uomo, impegnato a riparare la copertura del capannone con del catrame, abbia appoggiato un piede su uno dei tanti cupolini di fibro cemento, che però non ha retto il suo peso e si è disintegrato. L'operaio è precipitato all'interno del magazzino dell'azienda, sbattendo violentemente la testa con una scaffalatura, poi esanime, finito sul pavimento. I mediati soccorsi, attivati da chi in quel momento si trovava all'interno dell'azienda. Il personale sanitario, giunto sul posto con l'ambulanza e l'elisoccorso, ha tentato in tutti i modi di salvare l'uomo, anche attraverso una prolungata rianemazione cardiopolmonare, ma non c'è stato nulla da fare. L'area nella quale si è verificato l'incidente mortale è stata posta sotto sequestro, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il tetto. Sempre oggi pomeriggio, sempre a Dazzano Decimo, un uomo è caduto dal tetto di un'azienda agricola. Un volo di 4 metri che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze fatali, ha riportato una lesione importante ad una gamba.